dagli atti degli apostoli in quei giorni alcuni venuti ad antiochia dalla giudea insegnavano i fratelli se non vi fate circoncidere secondo l'usanza di mosè non potete essere salvati poiché paolo e barnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro fu stabilito che paolo e barnaba e alcuni altri di loro salissero a gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione essi dunque provveduti del necessario della chiesa attraversarono la fenicia e la samaria raccontando la conversione dei pagani e suscitando grande gioia in tutti i fratelli giunti poi a gerusalemme furono ricevuti dalla chiesa dagli apostoli e dagli anziani e riferirono quali grandi cose dio aveva compiuto per mezzo loro ma si alzarono alcuni della seta dei farisei che erano diventati credenti affermando è necessario circonciderli e ordinare loro di osservare la legge di mosè allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo problema andremo con gioia alla casa del signore quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del signore già sono fermi i nostri piedi alle tue porte gerusalemme andremo con gioia alla casa del signore gerusalemme costruita come città unita e compatta è là che salgono le tribù le tribù del signore andremo con gioia alla casa del signore la sono posti i troni del giudizio i troni della casa di davide chiedete pace per gerusalemme vivano sicuri quelli che ti amano andremo con gioia alla casa del signore dal vangelo secondo giovanni in quel tempo disse gesù ai suoi discepoli io sono la vita vera e il padre mio è l'agricoltore ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato rimanete in me e io in voi come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite così neanche voi se non rimanete in me io sono la vite voi tralci chi rimane in me e io in lui porta molto frutto perché senza di me non potete far nulla chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca poi lo raccolgono lo gettano nel fuoco e lo bruciano se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi chiedete quello che volete e vi sarà fatto in questo è glorificato il padre mio che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli